Ciao, sono Alessandro Perilli e benvenuto su questa pagina. Qui, come vedi, hai la possibilità di poter prenotare attraverso il pulsante che c'è qui sotto una coaching. In realtà è una lista di attesa per ricevere una coaching. Perché? Perché non è adatta a tutti. Cioè, innanzitutto c'è una selezione nei confronti di chi richiede la coaching. Molto tempo fa c'era la possibilità di poter prenotare direttamente pagando. Adesso abbiamo un attimo ristretto il campo perché vogliamo delle persone motivate, delle persone che realmente vogliono ottenere dei risultati con le aste giudiziarie e non vogliono semplicemente prendere queste coaching o questo settore come un semplice passaggio della propria vita. Certo, non si può sapere mai, però avere delle persone motivate con degli obiettivi chiari su quello che vogliono fare è quello che mi interessa, è quello che poi voglio passare come lavoro in parte anche al mio team. È molto importante. Quindi la lista di attesa ti permetterà di inviare una richiesta, innanzitutto. Una volta che hai inviato la richiesta, il fatto che hai inviato la richiesta non ti assicura la coaching perché riceverai poi nell'arco di un paio di giorni massimo una telefonata da parte del mio staff o del mio ufficio dove avrai modo di parlare per qualche minuto, ti faranno delle domande, capiremo se effettivamente sei adatto a noi e se noi possiamo realmente esserti utile. Io ho il mio staff direttamente nella coaching via Skype per cercare di aiutarti nel tuo obiettivo. Quindi la lista di attesa non ti assicura ovviamente la partecipazione alla coaching privata. Una volta che hai compilato questa lista ti metterai in attesa, riceverai una chiamata e se passerai questo step allora ti sarà fissata poi una call direttamente con me via Skype o dal vivo, dipende dalle situazioni, da quello che tu vuoi, da quello che necessiti e da come noi possiamo aiutarti secondo quelle che sono un po' le disponibilità mie e del mio staff. Quindi il bottone qui sotto ti serve per metterti in lista e ci vediamo dall'altra parte se questo sarà possibile.